ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dei talkers saluto i miei compagni di brigata federica rosaria e gabriele ciao ragazzi l'ospite di oggi è un cantautore palermitano che ha portato in giro per l'europa la sua musica che rappresenta un genere unico con influenze folk blues e rock and roll del suo sound dice è quello che mi piace ed è anche il modo in cui mi piacerebbe essere visto diamo il benvenuto tre talkers a manuel bellone ciao a tutti ciao piacere essere qua anche per noi un piacere nel senso qua a casa mia allora cominciamo subito con le prime domande e tocca proprio a me perché niente te tocca bisognava cominciare dal peggiore hanno scelto me allora manuel io adoro la radio mi piace intrattenere non so se l'hai capito già da questi pochi minuti quindi la mia scelta è stata quella di usare come strumento la mia voce però non ho mai imparato a suonare uno strumento musicale che cosa mi sono perso guardati sei perso anni e anni di stare a casa e non poter uscire perché stavi lì a provare a suonare senza riuscire a far uscire nessuna nota da quello strumento fin quando poi a un certo punto dopo tanti sacrifici si ci riesce lì sono soddisfazioni però sono anni di ma perché non lo butto sto strumento alla finestra perché tanto non riesco a far uscire niente quindi ti sei ti sei perso un sacco di stress prima e tutto poi ti sei perso manuel il solfeggio anche quello madol solfeggio che due palle ma insomma mi sono perso solo aspetti negativi devi sapere che anche fede suona è una musicista anche lei mi ricordo che quando inizia a studiare chitarra mi dovevano per forza costringere poi costringere insomma andavo là per studiare giustamente facevano il loro lavoro gli insegnanti e c'era quell'ora di solfeggio che io odiavo e riuscivo sempre a svincolarmi a scappare e infatti i risultati si vedono non so leggere la musica soltanto suonare quella che faccio io vabbè è già qualcosa anche perché suoni bene per cui mica male ne faccio tanta quindi sono riuscito a farne a impararne tanta no? tu dici tagli oggi dai domani esatto anche perché hai fatto tantissima gavetta in varie formazioni hai sempre suonato comunque con delle band qual è la differenza tra scrivere brani insieme a una band perché tu suonavi nei dicks e facevate anche pezzi vostri e scrivere invece da solo scrivere le tue canzoni ah la differenza è quella che non si litiga te la suoni e te la canti in tranquillità non devi avere a che fare con altre teste quindi dover prendere decisioni con altre persone di contro c'è anche quell'aspetto anche del confrontarsi con altri musicisti che in realtà è molto importante soprattutto quando magari hai dei dubbi su qualcosa hai anche bisogno di qualcuno che ti dica no questa cosa non farla così oppure questa cosa secondo me non funziona e quindi questo sì è una cosa che nello scrivere da solo manca quello del confrontarsi con dei colleghi volevo chiederti tu scrivi appunto i tuoi testi un po' come ti senti sul momento anche no? certo sì è chiarissimo come definiresti l'uscita del tuo EP che ricordiamo alla fine del 2016 giusto? ah sì il primo you need a plan B to stay alive bisogno di un piano B per rimanere vivo quanto è importante per te per magari gli artisti o per tutti insomma nella vita avere un piano B che rompe la monotonia e che dà anche un'apertura a una visione mentale più ampia un confronto appunto anche tra colleghi come dicevi tu stesso prima per i musicisti che lo fanno di lavoro c'è bisogno anche di evadere di avere qualsiasi altra cosa che possa essere un'altra passione o un altro lavoro che ti tiene la mente attiva ma verso una cosa differente anche perché se no poi si finisce per odiare magari il lavoro che fai e sarebbe una cosa tragica perché andresi ad odiare ciò che ami nel mio caso il mio piano B è il surf io ogni volta che mi sento occupato da tutto alla prima mareggiata vado se ci sono onde ci si butta in acqua lì serve serve molto secondo me come qualsiasi sport il contatto con la natura è importante proprio per assolutamente sgombrare la mente totalmente e questa è proprio quella del surf per me è diventata una terapia praticamente senti Manuel invece andiamo un attimo a parlare dei tuoi album in particolare su uno che mi ha colpito tra il 2017 e il 2018 se non erro esce Split Pot tra l'altro registrato durante vero e proprio ritiro musicale nelle campagne siciliane giusto? proprio qua Senti come è nata l'idea di realizzare uno split? C'è un motivo particolare? Spiegaci In quel periodo nella band suonava un mio carissimo amico nonché cantante della mia vecchia band il X e siccome ai tempi quando suonavamo insieme oltre ovviamente a scrivere i pezzi con gli altri ragazzi molto spesso ci ritrovavamo io e lui nella sua stanzetta con i nostri quadernini e le chitarrine a scrivere brani quando ha iniziato a suonare insieme ho detto ma perché non facciamo un disco con brani miei e brani tuoi e brani scritti insieme cioè cerchiamo di fare un disco che possa rappresentare tre sfaccettature della band quindi il mio carattere e il tuo carattere e quello che possiamo avere insieme come carattere e così abbiamo fatto questo disco split che appunto ha dei brani suoi brani miei e brani scritti insieme è riuscito l'intento? il disco è uscito mettiamola così sì dai le collaborazioni artistiche sono sempre interessanti e positive secondo me è un disco valido alla fine è quello che voleva essere è stato abbastanza semplice diciamo fare quel disco veramente i primi tre pezzi sono usciti così prendi la chitarra e vai due accordi alla vecchia maniera vi siete accordati non sentiamo mai per me che no è anche il caso di parlare dell'ultimo nato l'ultimo singolo che è uscito da pochissimo Allora questo brano è un singolo che io avevo iniziato a suonare, suonicchiare così prima del lockdown, durante il lockdown ero qui a casa, per fortuna ho tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare le mie registrazioni e ho incominciato a fare delle preproduzioni di un paio di brani. Nel frattempo stavo anche lavorando al nuovo disco che è praticamente pronto ma aspettiamo il momento giusto per farlo uscire perché sarebbe dovuto uscire proprio nel 2020, però non è stato possibile, quindi il disco è pronto, anzi abbiamo avuto un po' più tempo per mettere gli ultimi puntini sulle i e ora vediamo quando farlo uscire, verosimilmente è il 2021 che è il 2020 portagliello. Nel frattempo sto facendo queste preproduzioni e questo brano era il brano che spiccava di più e stranamente era l'unico brano che mi andava di ascoltare in ripetizione, proprio in loop. Con l'aiuto di un batterista con cui suona in un'altra band, una band blues, un quartetto blues che abbiamo, in remoto io ho mandato la traccia e lui ha registrato la batteria a casa sua che mi ha rimandato, quindi io ho montato sulla traccia e poi ho registrato tutti gli altri strumenti, l'ho mixata e alla fine siamo riusciti a far uscire questo disco con anche il video, video sempre fatto un po' durante il lockdown, un po' dopo. Manile, se noi volessimo sentirti più strimpellare poi così... Ciao! Ragazzi direi che siamo giunti al termine di questa puntata Ringraziamo Manuel per essere stato qui con noi Per aver suonato Grazie a voi Grazie Manuel Salutaci Palermo Ricordiamo a tutti di seguirci sui nostri profili Instagram e Facebook Seguite anche Manuel Se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividete Dai Talker Ciao a tutti Ciao